Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in laboratorio. Siamo qui a Ceparana nel laboratorio dell'amico John Coolstraps, che poi sarebbe la traduzione per Giovanni Centurini Fighi che tanto ci piace, cioè l'artigiano che ci realizza i nostri centurini che tanto ci piacciono, perché ho intenzione di farmi fare un paio di centurini, adesso vediamo come, quando e perché, per il mio Omega Speedmaster, che è anche l'orologio del giorno, eccolo qua, con il suo bel bracciale, che è bello, braccialato è bello, no? Molto bello. Però per farmelo un po' rivitalizzare, per farmelo piacere un pochino di più, voglio provare con un paio di centurini in pelle, che ho visto che John aveva messo delle foto su Instagram con questi orologi, con questi Speedmaster, con il centurino in pelle, proviamo, proviamo, proviamo. Un paio, hai detto un paio. Un paio. Secondo me, ecco, lui ha dovuto aggiungere la sua voce perché... Perché sono scroccone sei. Perché sì, sono scroccone, ma perché c'è anche l'amico Piero con noi. È venuto a scroccare due centurini, non uno, due. Beh, invece te... Io niente, io ho chiesto se pot... L'orologio del giorno... Tagoi al Monaco, dillo, puoi anche commentare. Ah, sì, scusa, Tagoi al Monaco, che tu ho commentato l'orologio, no? Che calibro ha? Ho chiesto se mi fa un cinturino nuovo, perché questo qui, quello originale, è un po' rovinato e lo volevo conservare. Quindi uno di quelli racing con i buchetti? Racing con i buchetti, con le cuciture rosse. Bravo, bravo, bravo. Che calibro ha? C'ha il calibro modulare, quello con un Sellit SV200 come base e modulo Dubuy-de-Pra sopra. Bravo, vedi che sta imparando, lo vedi? Bravo, bravo Davide Cecchini. Ecco. Cosa volete dire? Niente. Dai, andiamo un pochino a fare questi simpatici cinturini. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, eccoci qua. In realtà i cinturini sono tre, perché questa volta gli ha voluti scegliere l'amico Giovanni Cinturini Fighi, che lui non può mostrarsi perché c'ha la faccia, diciamo, che non è bella a vedersi, quindi non possiamo mostrarlo. Anche la voce è abbastanza strana, diciamo quelle tipo 22 cromosomi, quindi non lo ascoltiamo nemmeno. Tre ne ha decisi. Ha detto che gli ha decisi lui perché almeno lui c'ha il buon gusto, che rispetto al mio, che scelgo sempre cinturini, ciofeche, così ha detto, eh. E quindi uno è in alligatore classico, perché lo Speedmaster nasce con l'alligatore classico. Uno è in Nabucodonosor. Che cazzo è Nabucodonosor? È l'opera. Cos'è? Nabuc. Coccodrillo Nabuc, che è simpaticamente un bel tipologia che in questo momento non so cos'è. E uno invece in vacchetta, che ci piace tanto la vacchetta a noi, Piero, vero? Mi piace, scusami. Sì, che mi piace tanto la vacchetta. E con le impunture arancioni. Questo qua proprio è un colpo di genio che vedremo come viene fuori. Arancioni? Eh, purtroppo è così. Con lo Speedmaster. Perché quando sono andati sulla luna c'avevano le cuciture arancioni sulla tuta spaziale. Ah dai. L'ha detto lui, l'ha detto. Ah. Va bene? Dai, iniziamo, vai. Va bene, iniziamo. Io ho saputo, mi raccontavo una cosa, che lui i cotonfiocchi poi li riutilizzano, li ricicla, li usa per le orecchie. Infatti per quello che è sordo. C'è li ha tappati. Eccolo qua, praticamente è come essere un piccolo chef, lo vedi? La manualità. Guarda, è una fetta biscottata. Fai finta che è una fetta biscottata? Guarda, farne tre ci vorrà una vita. Mi viene già la tua ginocchia. Ecco, questo è lo spippolamento. Serve per evitare che la pelle ti graffi il polso. Praticamente questo qua viene di questo colore qua. Questo qua. Ecco, mi viene scuro così, mi viene scuro così. Bene, mi sa che mi piace già più di tutti questo a me. Ti graffi tutti così. E perché sei un po' monotono? Orologi neri, cinturini marroni. No, uno col cinturino giallo ce l'hai? No, l'ho venduto. Bene. Ok. C'è quello col cinturino blu squallo che quello lì è bello. Ma secondo me quest'anno, quest'estate sarà il bianco a fare... Cinturini bianchi li facciamo, John? Ah, facciamo anche cinturini bianchi, eh? Albini, il cinturino albino. Ma che senso ha che lo riempi di cola poi c'è la levi? Tanto vale che ce ne metti di meno, no? Grazie. Sì, ok. Non parlo più. Un'altra domanda la posso fare? Ma visto che la usi sempre la colla, perché lo chiudi sempre? Ecco, bravo, la sono aperta così. Grazie, Davide. Ecco, qua è fuori per le impunture. Qua, quando vedo le impunture io sono già contento, mi piaccio. Queste qua sono quelle che vengono arancioni, eh, ragazzi? Ste forchettine qua da Barbie, eh? E adesso praticamente abbiamo tagliato un po', non abbiamo ripreso tutto. Praticamente questo qua è un alligatore, lo vedete com'è lucido. Alligatore. Molto elegante, eh? E questo qua invece è il coccodrillo Nabuc, che è spesso e vellutato, come non ci si aspetterebbe di... Probabilmente era un coccodrillo che curava molto la pelle. E ora guardiamo poi il pulso come stanno, perché la differenza è quella lì. Io immagino un paio di pantaloni di coccodrillo Nabuc. E dove vai? Stiamo finendo il Nabuc e il alligator. Stiamo? Stiamo, perché il supporto morale mio è veramente elevato, capito? Poi il giudizio finale è mio, che può confermare o ribaltare la classifica. Cioè quello che mi sgomenta è che alla fine dovrò fare tre prove, cioè tre smontaggi di Hans, di Springbar, graffi contro graffi, capito? Hai ragione. Stiamo facendo le cuciture centurini, adesso stiamo, plurale majestatis. E arancione, questa vacchetta toscana arancione che proprio ci piace tanto, perché... A me piace vacchetta, sarà pull up, ma a me piace dire vacchetta toscana. Ecco lì che sta cucendo. È azzardato secondo me l'arancione così, è azzardato Piero. È bello, mi piace, è proprio un bell'arancione, ci sta bene. Poi come diceva Giovanni, su questo Speedmaster ci sta tutto. Vabbè, alla fine facciamo una prova dei tre centurini e vediamo un po' cosa viene fuori. A dire il vero io sono già orientato... Ma sul Nabuc Cocodrillo ci va qualche cucitura o rimane così? Ah, le cuciture nere praticamente, ok. No, mi fai segni perché è muto, dovete sapere Giovanni è muto. Ha la voce brutta. Oh, eccoli qua, sono pronti i centurini, come vedete. Cocodrillo Nabuc, alligatore e pull up, con le cuciture arancioni. Arancioni che ha scelto John. Il punto di arancione l'ho scelto io, quello più scuro. Però si può fare anche bianco. No dai. Panna. No, mi piace il push up lì. Il push up è un'altra roba, Piero. Ah, non è push up. No, è pull up. La pull up, scusa. Ora, la cosa da fare qua è qualcosa grave, è togliere lo Speedmasterino e te lo graffierà. John Kulstrap te lo graffia. No, me lo graffia. Sì, te lo graffia. Eccolo lì che te lo graffia. Eccolo lì. Quale metti per primo? Io metterei il push up. Proviamo il push up prima. Il fav up. Il fav up. Guarda, 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 come tecnico. Lui faceva l'orologiaio, eh? No, faceva il ladro. Eccolo qua. E metterlo al polso, no? Eh sì, 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 sì. Andiamo, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Fa cagare sto orologio qui. Vediamo, fa vedere. Eccolo qua. Eh, per andare a un matrimonio è elegante, dai. No, sta proprio bene, è proprio bene. Sì, elegante. Lucido, ragazzi, deve piacervi il lucido. Chiaramente. Non è brutto, eh? Bellino, sì. Poi è anche abbastanza morbido, nel senso che prende la forma del polso, eh. Devo dire che... È simpatico, sì. Devo dire che forse, forse... Vabbè, per ora questo qua è quello che mi piace di più, eh. È il primo. Bravo. Però, no, cioè, io pensavo mi piacessero più gli altri che questo. Invece mi ha sorpreso. Perché pur essendo così elegante e scicoso, rimane sportivo. E mori, facciamo l'operazioncina. Eh, no, a me piace il primo. Anche a me piace più quello, il primo, eh. È bello, eh. Guarda che è bello anche questo, eh. Veramente è bello anche questo. Per tutti i giorni è perfetto. Per tutti i giorni? Sì, sì. Sento qualcuno che scrive su un foglio di carta qualcosa da dire. Disquisisco caoticamente. E mi è rimasta impressa questa frase qua, che è il titolo dei miei video, quando faccio... Eh, ok, 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 ok. L'ultimo. Oh, eccolo qua. Coccodrillo del nylon abbuccato. Eh, eh. Cioè, se si può vedere qua, la... Eh, come si fa? Come si fa? Eh, vellutato. È bello, bello. Faccio vedere al polso. Questo qua volendo si può fare anche con le cuciture a contrasto di... Però il nero su nero è più sobrio. Ma quindi anche le cuciture bianche, dici, ci starebbero bene? Non lo so bianche se ci stanno, perché lo spara troppo. Questo qua è bello nero così... E' bellino anche questo, dai. Il primo... Eh, però questo qua... Questo qua è bello, eh. Mi piace di più questo. Dici? Sì, 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 mi piace molto, molto di più. Questo cos'è? Un abbuccato? Con due B? Eh, coccodrillo del nilo nabucato. Ma con due B o una? Una. Nabucato. No. No. Nel bucato. Nabucato. Nabuc. Ok, sto zitto. Va bene, dai. Aspetta, lo stringo un pochino di più, perché dopo non lo metto. Perché ora è inverno, no? Si stringe un po' il polso. Quindi... Ah. Questo. Questo. Ok. Ci lasciamo pure questo. E' più bello, sì. Poi il gusto è personale. Però anche questo, ragazzi. Eh, anche questo è bello, sì. E oh, come si fa? E compra un altro Omega. No, no, tengo questo. Va bene, dai, questo qua è quello che ho scelto io, secondo me. Poi, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Cosa dici te, Piero? Eh, che mi piace. Questo, ma anche il primo, eh. Anche il primo mi piace. Vabbè, abbiamo scartato solo quello marrone. No, non è che è scartato, che in confronto agli altri due ci stanno meglio quegli altri due. Questo qua, io mi piace questo qua che è vellutato. Dai, dai. Allora, dammi la mia macchinetta, Piero. Allora, ragazzi. Piero, dov'è di qua? Oh, l'amico Piero. Qua c'è il mio orologio simpatico, che è molto più bello di tutti voi messi assieme. Allora, vi ringrazio per essere arrivati fino qua, praticamente. Spero vi sia piaciuto questo viaggetto all'interno dello negozietto dell'amico John Kustrap. Giovanni Cinturini, fighe. E non mi resta altro che ricordarvi gli appuntamenti fissi che, come sempre, sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love. Eh, zecca la mano questa volta. Ciao.